Salve, ha come ansia è. L'ansia è una brutta bestia che tante volte può essere una causa o un effetto del fatto che voi siete dei morti di figlia. Non c'è dubbio che approcciare una donna per l'ansia, l'agitazione, la preoccupazione e tutto il resto è una cosa che non va molto bene, non va bene per voi perché ci state male e comunque non va bene neanche per quello che volete ottenere perché l'ansia si trasmette. Un'altra persona l'ansia la percepisce e quindi le persone ansiose purtroppo tendono a tenere lontane da loro le altre persone. La gente ansiosa intimorisce, la gente ansiosa intimorisce e quindi la gente sta alla larghe. Quindi se avete un problema di ansia bisogna che in qualche modo risolviate, a posto anche di rivolgetevi a qualche specialista, trovate qualcuno che vi possa aiutare, trovate qualcosa che ve la possa rimuovere o che ve la possa mitigare perché altrimenti diventa veramente un bel guaio. So benissimo che è difficile e che può essere un problema abbastanza serio, però se non risolvete questo problema tutto quello che vi ho spiegato finora e che continuo a spiegarvi rischia di servire veramente a poco. Quindi se soffrite di ansia trovate un modo per contenerla. Salve. Ciao.